Daniele è stato un testa a testa fino all'ultimo secondo, però alla fine è Trieste che si porta a casa a questi punti molto importanti. Mamma mia, è stata veramente una battaglia, abbiamo fatto una partita bellissima, stavolta lo posso dire, a differenza dell'altra volta che è stata combattuta ma non bella, questa volta è stata combattuta e bellissima, con ribaltamenti di fronte, con bellissimi gol, con capovolgimenti di tutto, bellissima. Sono contento perché i ragazzi, lo posso dire ma con orgoglio, hanno cambiato testa. Abbiamo avuto il giorno d'andata dove ci siamo conosciuti, dove abbiamo preso le misure, dove abbiamo un po' io, un po' loro, un po' tutti, diciamo abbiamo preso le taglie. Adesso abbiamo cambiato, abbiamo svoltato, ho chiesto ai ragazzi di svoltare perché è un giorno di ritorno dove ci sono 13 partite di cui 10 sono da giocarsi così. Fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo pallone, fino all'ultima difesa, fino all'ultimo battito di cuore, è questo quello che voglio.